Buonasera a tutti, voglio subito chiarire che come Ministro della Giustizia fin dal primo momento non sono mai entrato nel merito delle varie inchieste per il rispetto che devo all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, quindi chiarisco che non entrerò ovviamente nel merito di nessuna delle inchieste che sono agli onori della cronaca oggi. Mi preme però rilevare come Ministro della Giustizia che non solo le inchieste di cui abbiamo preso l'esistenza in dato odierna ma anche le varie inchieste che ci sono e che sono frequenti e sono tante dimostrano che la corruzione rappresenta ancora una piaga fondamentale e gravissima del nostro Paese contro cui il Governo, questo lo dico in maniera netta, senza sé e senza ma, il Governo continuerà a battersi contro la corruzione come mai si è battuto nessun Governo in passato.